ciao ragazzi e ragazze allora come avete visto dal titolo facciamo questo video della Yves Rocher allora facciamo l'album vediamo l'album e le offerte che ci sono in questo album come al solito vabbè io ho saltato un sacco di album però vediamo quest'album mi piaceva tantissimo la mia capogruppo me l'ha data e sfogliamolo insieme ci sono delle tantissime novità allora questo album ha validità da mercoledì 16 marzo fino a martedì 5 aprile ok quindi vediamo allora diciamo che la Yves Rocher sta dimezzando pure molto i prezzi ho visto dei cambiamenti diciamo dell'azienda allora ogni 25 euro di acquisto dei prodotti della Colors Natur da pagina 4 a 27 abbiamo in regalo sia in regalo un pennello a vostra scelta un pennello ok poi quindi infatti stanno mettendo pure questo fatto di reali tutte queste cose qua poi scita una nuova un nuovo prodotto la polvere perlata labbra cioè esalta le tue labbra con una luminosità marmorizzata gioca con dei riflessi dorati cioè dopo l'applicazione del del rossetto si può applicare con un pennellino con un pennellino diciamo questo effetto dorato e sia questo effetto dorato che che bello poi ci sono i matitoni le sei nuove tonalità a 7,95 a questo qui costa 9,95 poi ci sono queste altre tonalità e poi sono usciti altri prodotti nuovi questo ombretto effetto marmorizzato a me piace tantissimo questo blu sia blu che 2 che beccia 9,95 poi è uscito una polvere esce questa polvere effetto marmorizzato sempre bello questo questo qui mi piace questo qua più col marrone il medium e poi questo qua che va più nel rosa è una polvere illuminante con un effetto marmorizzato dove illumina l'incarnato riproduce tutti questi effetti marmorizzato questo è bellissimo proprio come un illuminante soprattutto a sotto per l'estate diciamo e sta 12,95 poi ci sono questi edizione limitata di questi smalti belli questi smalti a 3,95 e poi ci sono ci sono i questi rossetti io con questo qua con il packaging la gran luce questi qua sono bellissime questi con il packaging dorato io mi trovo bene infatti ne tengo 3 o 4 di questi qua invece per esempio sa quell'altro che era mi sembra che non ci sia nemmeno più sto parlando di uno che è uscita tantissimo tempo fa penso che non ci stanno più infatti quelli colorati la con gli assucci colorati allora un'altra novità troppo bella che mi piace tantissimo e questo primer labbra opacizzante a 7 euro e 95 in poche parole opacizza e fissa il rossetto c'è allora venire per la prima volta è un ci sta una crema base per le labbra opacizza e fissa qualsiasi rossetto applicato successivamente è bellissimo infatti qua vedete il rossetto il risultato solo del rossetto dopo che rossetto dopo che è stato messo il rossetto più il primer viene opaco è bellissimo cioè questo qui proprio bello 7,95 poi vabbè ci sono le matite le stilo labbra a forse sono questi qua che dicevo prima il rossetto brillantezza vegetale questi qua io se non sbaglio c'ho uno rosso si deve essere questo penso che sia questo non lo so dovrei domandare alla mia capogruppo di quello che c'ho io se c'è ancora perché era proprio uno di agli inizi che facevo la Yves Rocher quindi perché quello lì per esempio a me mi secca un po' con le labbra quindi non so se la stessa la stessa mark dicono a bugia non mi ricordo ora come si chiama l'altro può essere pure che questi sono nuovi questi non li ho mai usati quell'altro e lì sì allora poi ci sono i vabbè poi ci sono i fondotinta e poi c'è la novità dell'album che è uscito in album 3 il fondotinta cushion non so se ho detto io il francese no perché ora sotto vilano sicuramente non sai il francese le ragazze sotto infatti chi sa dirmi la pronuncia esatta me lo scrivesse sotto è stupendo è bellissimo proprio infatti se mi sarà possibile questo qui lo voglio provare anche perché io non so più usando fondotinta il fondotinta non lo uso più però questo è proprio bello cioè a parte che poi non senza a parte che gli inci saranno pure buoni e questo è fatto è un astuccio di 11 grammi ma proprio bello pure diciamo a ecco qua sta scritto senza par 0 0 parabeni io questo volevo andavo cercando sul catalogo quindi questo qua è il beneficio diciamo che è importante del prodotto quindi senza parabeni sta poco scritto poi vabbè abbiamo questi qua questo qui io l'ho ah no questo ho usato io 0 difetti eppure mi trovo bene poi abbiamo facciamo poco poco più veloce ragazze perché non voglio fare proprio i video lunghi allora poi questa qua è la terra bronzante che ha usato già mia sorella eppure si trova bene e questi sono i blush la no questa è la cipra in polvere e questi sono i blush ecco qua questo c'ho io questo blush qua clay rose questo qui a parte che sono profumo profumatissimi il makeup di live rocher e poi questi sono i mascara una mia cliente io ho consigliato questo qui il sexy pulp questo qui che me l'ha consegnato a sua volta me l'ha consegnato la mia capogruppo a me perché diciamo che questo infatti sui video è uno dei migliori che ci sono delle buone recensioni su questa mascara della Yves Rocher vabbè questi sono gli ombretti io c'ho questo qua ne tengo parecchio di questi qua ho avuto parecchi di questi ombretti anche con regali di adesione diciamo il makeup è quasi tutto appunto con i regali adesione poi questo qua queste sono le matite qua ci abbiamo questi qua sono delle questi sono degli ombretti questi pure sono degli ombretti perlati diciamo questi qua e questi sono tutti gli smalti gli smalti sono troppo belli io vi dico la verità tengo ancora un sacco di smalti di quelli lì vecchi questi nuovi non li ho provati ancora vabbè questi sono la sol e sono gli struccanti devo dire pensate che l'altro giorno allora fra questo e questo come a livello di inci le ragazze che sanno gli inci io preferisco questo qua però io vi dico una cosa questo qui l'ho usato perché ho tutte e due le versioni allora no ho dovuto riattaccare ho dovuto riattaccare i video perché mentre stavo facendo l'album è entrato davide e quindi ho dovuto abbia unito i video stavo dicendo fra i due questo qui diciamo che ha inci diciamo migliori migliori di questo qua perché ci sta le ragazze che sanno gli inci sanno dopo l'acqua che cosa ci sta e quindi però io vi dico una cosa nonostante ci sia questo il silicone dopo l'acqua io vi dico la verità che quando ieri mi sono struccata proprio con questo qui con un fazzolettino addirittura perché non avevo più le salviettine struccanti e quindi c'è il trucco si leva ma nell'arco di un attimo non solo si leva il trucco nella nell'attimo preciso che tu metti lo metti sull'occhio assolutamente non ti brucia però io fra i due allora questo lo uso quando c'ho il mascara quando tengo la matita e invece questo qui quando tengo solo l'ombretto quindi ho tutti e due però io questo comunque lo uso perché perché sinceramente non mi brucia se mi faceva l'effetto che mi bruciava allora non l'avrei usato a volte soggettiva la cosa però uso più questo che questo questo solo quando tengo il mascara che me lo metto una volta ogni tanto questo lo uso molto raramente infatti lo tengo da una vita questo qua e questo qui lo uso sempre quando mi metto gli ombretti però sono tutti e due questo pure buonissimo diciamo che io mi trovo non mi hanno fatto nessuna allergia e niente di niente e quindi questo qua pure mi piace poi ci sono qua per questi qua per le imperfezioni questa qua della pur camilla le maschere queste maschere dal maschera effetto ghiaccio mirtilli l'acqua ripetalizzante al polpemmo rosa il gommace coluso alla albicocca tutte queste cose qua poi ci sta la idra vegetal qua abbiamo fatto delle offerte ci sta questo set di traveggio dal dove diamo dove sia l'offerta del gel detergente più freschezza freschezza più gel crema idratazioni 24 ore a 9 95 poi ci stanno pure i prodotti che poi si possono prendere singola dell'idra vegetal io l'idra vegetal mi trovo benissimo poi c'è la sebo vegetal dove a 11 euro e 95 c'è questo setto con un gel detergente purificante ecco qua e gel crema zero difetti la stessa cosa con protezione per pelle sensibili della sensitive vegetal ci sta il sette latte detergente latte detergente lenitivo più crema idratante antirossori 12 e 95 poi abbiamo la serie un vegetal antirughe abbiamo questa qua 40 50 anni questa qua e 30 40 anni queste invece 40 50 anni e questa da 50 anni 60 anni perché anche l'effetto ha un effetto di lifting in più poi abbiamo questa acqua a partire dai 30 anni a questa qua hanno fatto molte recensioni mi sembra sui sim su youtube e queste le x 7.9 questa magari si dovrebbero fare di video a parte proprio sulla crema poi abbiamo efficacia vegetale antimacchia antimacchia a questi infatti pure della zero difetto questo mi sembra preso nuove bello questo qua antimacchia poi ci sta a partire dai 40 anni l'intige il global agire sui segni del tempo e questa invece a partire dai 50 anni la rich cream poi abbiamo abbiamo a queste qua io per esempio l'ho provate l'ho provate e queste sono troppo belle queste sono lift bio trattamenti antirughe giorno e trattamenti antirughe notte poi ci sta a struccarsi il primo gesto di giovinezza acqua misce della detergente e latte detergente cremoso l'ho usato molto parecchie volte mi trovo benissimo strucca troppo questo latte detergente a me mi piace tantissimo quest'altra acqua invece della serie a un vegetale non l'ho mai usati allora poi ci stanno pelle liscia adratata per tutta la giornata allora questa acqua vegetale corpo allora questa è una crema nutriente 3 in 1 la pelle rinnova la c'è la pelle si ritrova la pelle dona la pelle una grande elasticità e poi ci sta l'olio bifasico sublimi sublimante ideale nutrita la pelle sublimate e satinata in un solo gesto poi ci sta l'olio sotto la doccia e latte nutriente bella questa linea alla vina penso sia alla vina si estratto di avena nutriente perché ho riconosciuto la pianta del che ci sta pure sopra lo sciampo all'avina che troppo io adoro gli sciampi del cioè mi sto trovando bene con gli sciampi della euroscela importante che non sono sciampi con le erbe le erbe perché se non sbaglio sono allergica a qualche pianta poi ci sta pelle liscia adratata per tutta la giornata acqua dilatante latte di atrante gel fresco gambe gommace vegetale musso idratante e anticrescita poi preparati per l'estate prepara il tuo organismo agisce globalmente sulla silhouette e mantieni i risultati ottenuti abbiamo questo allora questo diciamo se fosse uno sciroppo favorisce l'eliminazione per le scorie depura l'organismo grazie all'estato di tè verde e l'eliminazione delle tossine grazie al dente di leone poi ci sta questa per la cellulite allora qua è una specie di la sveglietta allora una specie di vegetale perché stavo cucinando sto cucinando allora una specie di allora azione smallimento dei grassi azione drenante per fare favorisce l'azione drenante limina l'eliminazione delle scorie e questo è una specie di sciroppo ad estratto di tè di tè di tè verde poi c'è qua viene messo si abbina questo al programma o questo che sarebbe un siero riducente oppure questo oppure questi di questi due diciamo per le zone le zone più con la cellulite si applica questo piccolo si applica questo trattamento per le zone più che sono colpite diciamo dalla cellulite oppure ci sta questo qui tutti e due a 34 euro e 95 questo qui sta in offerta invece di 19 11 euro e 95 più o si aggiunge questo o si aggiunge questo si aggiunge questo oppure tutti e due senza lo sciroppo poi ci sono sempre questo qua vabbè questo qua è ad esempio questo qua è per per gli addominali per i glutei queste anticellulite queste cose qua poi c'è la pagina bio ci sta quest'altra qua con la nutrizione certificata bio questi sono tutti prodotti biologici perché c'è la certificazione bio poi abbiamo mani curate abbiamo set mani di fata 5 95 con un esfiolante con un trattamento esfolante vegetale e la crema poi la stessa cosa per i piedi abbiamo il set a 9 95 con la crema del dorante set manti con la allora mantini piedi freschi con la crema del dorante e poi devi prendere o prendi questo o prendi quello set 9 95 esatto poi abbiamo solari protettivi per il sole abbiamo i dopo sole e poi abbiamo allora l'acqua profumata al mano e al mono e abbiamo l'olio sicco prezioso l'olio sicco sublimatore e l'olio di tatè tradizionale poi abbiamo tutta questa qua tutta la questa linea che ci sarà ancora per poco questa linea mannaggia che peccato mannaggia all'avena poche parole tutta la linea l'is place natura ci sarà ancora per poco e poi abbiamo i complementari integratori complementari questo qua per esempio benessere per le tue articolazioni per le ossa abbiamo gli integratori gli integratori vitalità quotidiana energia per chi fa palestra tutte queste cose qua e poi a maggio usciranno anche gli integratori per la bronzatura poi faccio a barbio poi ci sono tutti i profumi nostri tutti i profumini belli profumi facciamo veloce che già davide mi ha fatto il nome di fare mi ha fatto bloccare il video io volevo fare un video va bene poi abbiamo abbiamo tutti i nostri balsami labbra poi abbiamo gli sciampi e capelli allora zero parabeni zero senza coloranti tutte queste cose qua allora e ci sono io per esempio sono cura allora io mi sono allora io sto usando questo shampoo qua ora non lo lascerò mai più infatti voglio provare l'olio voglio provare anche l'olio però mi voglio far finire come c'è ancora poco olio di gioco tengo dell'olio di gio giova ancora allora voglio finire prima l'olio di gio giova che tengo e poi voglio usare quest'olio qua poi va bene ci sono questi qua per i capelli lisci capelli definiti capelli colorati tutti questi qua io mi trovo con tutti quelli che ho usato fino a ora diciamo che poi ho usato gli stati tre allora l'unico che non mi sono trovata perché secondo me sono allergica alle erbe io ho scoperto almeno in testa perché l'ortica comprai uno shampoo biologico di 16 euro la usato davide perché mi faceva il prurito con tutto che era tutto biologico la mamelis l'ho provato e non posso usare nemmeno questo perché quindi ho capito detto ho capito sono allergica proprio alle erbe allora io in testa cioè non mi posso mettere l'ortica la mamelis per esempio invece il bagno schiuma non mi fa niente il bagno schiuma di questo e ho visto che tutto ciò che uso che fatto con l'olio non sono allergica l'avena per esempio lo shampoo che teniamo noi questo qui dell'avena non sono allergica eccolo qua questo qua dove sta non lo vedo proprio ora non lo vedo questo qua ho usato e non sono allergica ho usato dove sta quello alla l'avena non lo vedo aiuto eccolo qua questo qua l'avena e non sono allergica e poi ho usato questo di gio gio questo qua l'olio di gio giova questo mi piace proprio tantissimo nei consumi all'olio riparatore di gio giova ma trattamento si deve tenere l'olio di gio giova che mi ricordo bene oddio amnesia mentale e comunque niente quindi gli shampoo io li promuovo mi piacciono troppo anche perché comunque durano tantissimo e costano pure poco questo è l'antiforfora e questo è il siero che protegge i capelli dalla rottura per esempio questo pure interessante questo qua questo pure mi a me tutto ciò che riguarda i capelli mi interessa tantissimo e quindi questo pure mi interessa poi ci sta l'anticadute che già l'ho provato pure mi trovo e poi questi qua sono i bagno schiuma gel doccia che non mi sono allergica io però a me vi dico la verità sento troppo questo odore di erba e quindi a volte non preferisco più questi qua i gel doccia questi qua perché sono spettacolari questi qua allora infatti guardate che offerta sex relaxi a 5 euro la lavanda la lavanda lavandina di provenza magnola della cina e fiore di loto poi ci sta allora poi ci sta gel doccia rilasciante loto del loto laos magnola della cina e fiore del cotone d'india acqua hanno cambiato qualche cosa qualche setto 5 euro bellissimi poi quando messo invece gel d'osso a rinfrescante carambola della malesia fiore di terre della polinesia e doccia vellutata noci di macadonia del guatemala bellissimi setta tutta esotico questo è queste golosità allora noci di macadonia del guatemala poi crema doccia vellutata chicchi di caffè del brasile allora chi non ha sentito questo mamma mia che cos'è questo qua c'è proprio come se ti stessi come se c'è il caffè nella macchinetta e poi gel doccia energizzante melagrana di spagna marona buono il melagrana questo non l'ho mai provato setto profumato flor arancia flor della florida melagrana di spagna e polpelmo della florida e poi viaggio in oriente abbiamo cotone d'india magnola della cina e carambola della magnesia bellissimi questi qua perché poi durano pure parecchio perché comunque ragazzi sono 200 ml cioè tu puoi per farti la doccia non è che ti devi mettere tutto il devi metterti tutto il chissà quanto te ne devi mettere addosso e poi questi qua sono belli sono troppo belli quando vai in vacanza pure se devi fare un viaggio uno spostamento perché non ti occupano spazio nella valigia questi qua sono bellissimi e poi ragazzi è finito il catalogo ci sta questo qui che io pure lo voglio provare perché perché allora in poche parole questo è vaniglia brezza esotica io quando perché me l'ha detto pure la mia capogruppo quando mi ha detto che c'è la vaniglia mamma mia io adoro tutto l'odore della vaniglia mi piace troppo e questa è in offerta a 13 euro 12 euro e 95 questo è un profumo c'è e di toilette c'è un profumo che non è nemmeno molto pesante perché sono allergica a me non piacciono i profumi pesanti non mi piacciono proprio allora niente ragazzi questo è stato il catalogo mi dispiace che ho dovuto staccare il video mannaggia e ora non so fare l'unione devo aspettare per forza davide quindi penso che lo pubblicherò domenica perché poi domani devo andare a marano perché voglio far vedere il catalogo a delle ragazze e poi ragazze niente se volete perché ho avuto delle dei messaggi da una ragazza si chiama ma mi sembra marica non lo so se ora vedrà il mio video allora metto anche la pagina mia facebook qua della euro c'è perché voleva delle informazioni perché a volte quando non siete iscritte non 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 so perché a me non mi arrivano tutti i messaggi delle ragazze che mi rispono che scrivono sotto i commenti mi è arrivato in google però io non posso rispondere perché evidentemente non la posso rispondere e quindi ho messo sotto il video come si diventa consigliera pure la pagina la mia pagina facebook se le ragazze vogliono delle novità anche perché voglio dire una cosa se volete un altro video di come si diventa consigliera aggiornato cioè perché quello era un video di tre anni fa perché vedo che è molto visualizzato quel video me lo dite io rifaccio il video in modo più aggiornato quindi niente ragazze qualsiasi informazione chi vuole diventare chi vuole prodotti perché spedisco pure fuori chi vuole diventare consigliera di bellezza me lo mi scrivesse sulla mia pagina facebook in privato e vi do tutte le informazioni anche se siete già consigliere se volete sapere qualcosa non vi preoccupate quindi metto la pagina giù vi do un bacio al prossimo video ciao